dall'esterno verso l'interno, dal superumano al piano concettuale umano, attraverso Pietro Ubaldi. Io cerco di compiere ciò aiutandomi con un processo di progressiva armonizzazione operante dall'esterno verso l'interno e con l'armonia, incominciando dal campo acustico musicale, che io vinco le dissonanze laceranti delle correnti barontiche del male e adopero la musica come primo gradino sulla via del bene e dell'ascensione dello spirito. Ciò stabilisce insospettati rapporti tra musica, preghiera e evoluzione di anima verso il bene. Armonizzarmi è il mio problema, perché salire significa ritrovare l'unificazione, perché salendo la mia sensibilità aumenta e più soffro di qualsiasi dissonanza. Uno dei tormenti della mia vita è la convivenza nel lacerante frastuono psichico-umano, che solo l'insensibilità degli involuti può sopportare. Così io adopero la musica come altro mezzo iniziale di sintonizzazione di ambiente, perché mi aiuti a balzare dall'armonizzazione in questo primo piano sensorio esteriore, alla mia armonizzazione nei più alti piani supersensori, musica che ottengo dalla radio, specie la migliore musica sinfonica, tipo Wagner.